buonasera amiche e buonasera amici bianconeri come anticipato nel contenuto di questa mattina il tre gran risposte mi trovo impegnato in una mia trasferta di lavoro come potete vedere dalla location e quindi arrivo nel tardo pomeriggio per un secondo contenuto che ritengo fondamentale importante interessante che andiamo a sviluppare insieme perché oggi il tar del lazio si è pronunciato e allora prima di ascoltare e di capire di cosa stiamo parlando mi raccomando scaricate l'applicazione one football di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link per agevolarvi lo scarico un'applicazione leggera gratuita fruibile sia dal play store per chi ha dispositivi android sia dall'apple store per chi è in possesso di iphone di ipad e un'applicazione che vi dà la possibilità di rimanere costantemente aggiornati su tutto quello che ruota intorno al mondo del calcio che vi dà la possibilità di selezionare la vostra squadra del cuore e quindi non perdervi proprio nulla di ciò che la riguarda attraverso one football tra l'altro potrete visionare tutti gli highlights di tutte le partite di serie a serie b e serie c pertanto scaricatela tenetela sempre presso con voi perché è davvero un qualcosa di gratuito ma molto utile veniamo al contenuto il tar del lazio si è pronunciato e allora vi leggo la nota il tar del lazio obbliga covisoc e procura figici a consegnare alle difese la nota 10 940 del 14 aprile 2021 quella in cui l'organo di vigilanza chiedeva chiarimenti segnalando alcune operazioni sospette di plusvalenze fin qui il rilascio della nota era stato negato è uno dei punti del ricorso juventus al collegio di garanzia del coni perché in linea teorica potrebbe retrodatare i termini di obbligo di apertura inchiesta rendendo parte degli atti inutilizzabili saranno i giudici ovviamente a decidere ora però il documento entra negli atti del processo sportivo cosa che fino ad oggi sostanzialmente era stata negata proprio dal procuratore federale giuseppe chinè ricorderete qualche tempo fa quando in un contenuto qui sul mio canale vi raccontai di questa carta in possesso sostanzialmente dei legali bianconeri o meglio a conoscenza dei legali bianconeri che per la data che riportava avrebbe potuto rendere invalidante e quindi non valido la richiesta non valida la richiesta di ricorso e quindi invalidante appunto la sentenza del meno 15 nei confronti della juventus or bene io non voglio vendere fumo non voglio illudere nessuno e quindi non voglio dirvi che con l'ingresso di questa carta quindi questa nota 10 940 del 14 aprile 2021 il ricorso al collegio di garanzia ovviamente presentato dai legali avrà certamente effetto positivo e che quindi la juventus si vedrà restituita i 15 punti in classifica toltigli a seguito della richiesta del procuratore del procuratore federale e della sentenza della corte federale d'appello però è indubbio che è un dato oggettivo racconto un fatto verificato si proprio nella giornata di oggi che non può non essere sottolineato perché ha una valenza importante e rappresenta davvero un punto di svolta questo punto di svolta potrebbe portarci qualora fosse verificata questa diciamo incongruenza temporale e quindi renderebbe rendendo di fatto non accettabile il ricorso per condannare e per sentenziare appunto sulla juventus sono portato a pensare che non ci sarebbe un rimando alla corte federale d'appello per una riformulazione della sentenza ma sarebbe invalidante in toto e quindi alla juventus verrebbero restituiti i 15 punti in classifica siamo ancora ovviamente nel campo delle ipotesi perché lo ripeto non voglio vendere fumo c'è questa nota che entra in gioco se sarà verificato il tutto così come avevo prospettato in quel contenuto di qualche settimana fa allora ne potremmo vedere delle belle è chiaro che sono delle belle per modo di dire perché noi pensiamo che la juventus è stata martorriata negli ultimi due mesi da questa spada di Damorgle di questo meno 15 in classifica che volenti o nolenti ha influito e ha inficiato nell'umore nella testa dei giocatori dei dirigenti dell'allenatore per quanto lo stesso Massimiliano Allegri si sia prodigato per tenere alta la concentrazione e cercare step by step di conquistare punti dopo punti per continuare e ricominciare a scalare la classifica mi viene da pensare che qualora appunto fosse quanto tutto questo confermato e quindi alla juventus restituiti i 15 punti bene ci troveremo di fronte ad un clamoroso danno al quale la juventus è dovuta sottostare e allora la questa juventus che è stata penalizzata alla quale è stata appunto ha combinato una penalizzazione ingiusta a questo punto a quel punto non a questo sarebbe stata combinata una sentenza ingiusta che cosa farà farà ricorso presenterà una richiesta di danni perché è innegabile sotto gli occhi di tutti che una sentenza iniqua perché così potremmo definirla a quel punto avrebbe ovviamente inficiato la classifica non solo dei bianconeri ma anche delle altre squadre perché chi ha giocato contro la juventus e anche sostanzialmente le partite di contorno che avrebbero visto ovviamente altre compagini danneggiate da questa situazione di rimando ma comunque danneggiate siamo davvero al paradosso soprattutto alla luce di quanto commentato peraltro nelle tre gran minuti di questa mattina è avvenuto con la situazione jose murino è chiaro io l'ho messa su due piatti sostanzialmente differenti ma è vero che siamo nel campo della giustizia sportiva e quella giustizia sportiva che ci è stato riferito debba operare in maniera celere per arrivare ad una sentenza per arrivare ad una conclusione a discapito anche della certezza del reato cosa che non è avvenuta invece nei confronti di jose murino per il quale io mi sono speso da un certo punto di vista in termini giusti che fosse in panchina anche se quelle frasi le ha dette realmente anche se è stato provocato avendo detto quelle quelle frasi probabilmente c'è chi sostiene forse ha ragione jose murino dovrebbe essere comunque squalificato fermo restando che poi le indagini nei confronti del quarto uomo debbono essere comunque svolte dovranno portare ad una verità e qualora confermata io credo che per il quarto uomo la carriera possa essere possa considerarsi sostanzialmente conclusa ma murino è stato è stato la sentenza la squalifica nei confronti di murino è stato sospeso sulla juve si è decisi di procedere immediatamente perché si aveva l'input l'ordine la voglia di massacrare la juve tutto quello che ne è uscito mi porta a pensare questo tutto quello che è scaturito nel corso di queste di queste settimane dopo la sentenza delle meno 15 mi porta a pensare che c'era un unico obiettivo quello di dare un segnale forte e quel segnale forte doveva essere dato danneggiando la juventus sicuramente la juventus è stata danneggiata ora vediamo se la juventus attraverso i propri legali attraverso anche l'entrata in gioco di questa nota 10 940 del 14 aprile 2021 che attraverso la propria data potrebbe invalidare per decorrenza dei termini il ricorso che il procuratore federale giuseppe chinè aveva presentato alla corte federale d'appello e quindi attenzione perché siamo ad un punto di svolta o meglio potremmo essere ad un punto di svolta e allora rimanete sintonizzati perché da oggi c'è un elemento in più che può far pensare che il ricorso presentato ai legali della juve possa avere un effetto positivo a quel punto ci sarà da valutare se per la juventus partirà un'eventuale richiesta danni intanto covizoc e figici si sono piegati alla richiesta del tardellazio di consentire l'accesso a quella carta ci sentiamo presto ditemi la vostra fino alla fine forza juve ciao